Ah, allora oggi ti piace se ci assisterà? Sì, mamma mia, questo pioggia ieri. Madonna, è di sera sì. Io sono stata compiuta per vari ore, ma... Oh, sì, Michi. Pataccio. Sapiti? E tu li ho assaggiato? Sì, già là dopo. Allora, guarda il pini. Vedete, ha un pici. E ha un pici. E ha un pici. Ma cos'è il pici? Un po' La cera. Ok. Rob e Daniel dopo non cercano sotto. Faccio, sta bene? Sì. E che prego che io ho? Sono comprato. Alla stanza da qui. Sono andato. Eh, gli altri vecchi. Hanno provato tutti i vino. Non ho comprato. Meglio, no? No, ma... Ma quando provi di resi via? Almeno quando siete persone. Mi prendo io. Vabbè, meglio. E questo... Perchè loro hanno usciuto il wine giù a casa loro. Ah, bene, bene. Perchè loro ospiti, capito? Però adesso che l'hanno fatto... Un po' di farina. Sì. Dove? Di sotto ci devi mettere la farina. Per persone che vieni qui spesso, o anche vivere qui, conosce poco di cose. Sì. Bene. Perché ci vengono una volta... No, no, no. Un po' di farina. 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 Ahahah. No, no. E questo è grante per lei. Già una torcia grande? La torcia grande. È una torcia grande. È una torcia grande. Come si chiama? La mamma ha lavorato in ospedali, originali da Trieste, la mamma, e i figli chiamati ordinari, c'è Irene, Milano. So you do it with that part of your hand and you hold it and it stretches, you see. Denise is very good. Yes, perfect. Ok, perfetto. Arrivederci al capo di casa. Il capo di casa è arrivato. Il capo di casa è arrivato. Il capo di casa è arrivato. Is that good? It's incredible. Oh no, not yet? The reason for this is that it's a little bit of corn flour and regular flour. And of course when you buy pasta, it's a bit dry, it just dries it out a little bit. Oh, ok. This is Roberto, who is Susanna's partner. Ciao Roberto. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Here we are in the middle of Italy. The world famous auctioneer April Brown. who is teaching you how to make Pishii. Pishii. We have a Pishii. 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 Your future is, this is your future. You have seen your future. They won't have me back. Pishii. Pishii. Good job. If you'd like to buy one of April's Pishii at the auction, where the bidding starts at $200. Actually this is part of the bag of the store package that you get at the charity auction world. You can come too. Good job. Am I Italian? Yeah, you're getting so much better. Thank you my dear. Thank you you guys.. Thank you my dear. You want your final dance? You want me to have? You want me finally? You want me to have? Well Jurado, don't give me a